Elezione Day, ecco i giorni di chiusura a scuola per le elezioni 2022. Rese note dalla Prefettura di Siracusa le modalità della chiusura delle scuole in prossimità delle elezioni nazionali e regionali. Neanche poche settimane dall'inizio delle attività scolastiche, gli istituti dovranno chiudere per permettere le operazioni di voto. La chiusura durerà diversi giorni. Le votazioni si terranno domenica 25 settembre. Si potrà votare dalle 7 alle 23. Si voterà in una sola giornata, quindi cosa che permetterà di limitare il periodo di chiusura degli istituti scolastici. Per motivazione legata agli aspetti logistici dell'approntamento delle sezioni elettorali, i plessi scolastici della scuola dell'obbligo coinvolti per le suddette consultazioni verranno presi in consegna a partire dalle ore 14 di venerdì 23 settembre fino all'intera giornata di martedì 27 settembre, a seguito della circolare 89 del 10 agosto del Ministero dell'Interno. Si dispone che i seguenti plessi scolastici comunali concludano l'attività didattica alle 14 di giovedì 22 settembre, per la successiva consegna al personale comunale incaricato e potranno riprendere l'attività didattica da mercoledì 28 settembre. Plesso di via dei Montalto, travesta di via Santissime Coronati, plesso di via Alcibiade numero 6, plesso di via Basilicata numero 2.